E' ancora tutta da definire l'operatività e la tempistica per far detonare in mare la bomba d'aereo da 250 kg ad alto potenziale che ha tenuto sotto scacco per un'intera nottata la città di Fahm. La brillante operazione congiunta tra genio ferrovieri dell'esercito e gli incursori della Marina ha consentito di allontanare nella nottata tra martedì e mercoledì scorsi il rischio per 23.000 fanesi di passare sei giorni fuori dalle proprie abitazioni, questo però mettendo a repertaglio la vita di 11 militari. Ora il mostro aspetta lì a 14 metri di profondità il suo destino quando i sommozzatori dello SDAI gli applicheranno una carica di esplosivo e metteranno la parola fine su questo capitolo della storia della città di Fano. Il conto alla rovescia delle 144 ore, tempo in cui la spoletta ritardata diventerà inattiva, termina alle 9 di lunedì prossimo e teoricamente da lì in poi ogni momento è buono, ma ad oggi il quando è ancora tutto da definire. In queste ore sono in corso valutazioni a più livelli su questo aspetto ed è interesse anche della Marina militare chiudere al più presto la partita, ma molto dipenderà dalle condizioni di visibilità in acqua di lunedì con le quali dovranno confrontarsi nel dedicato compito i sommozzatori della Marina dato che è previsto per il fine settimana un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nell'attesa del capitolo finale di questa vicenda anche il neoparlamentare ex militare espressione territoriale del Movimento 5 Stelle, Maurizio Cattoi, ha voluto complimentarsi con quanti hanno reso questa operazione un successo. Soprattutto l'aspetto che riguarda i volontari che si sono veramente dedicati con una profusione di forza incredibile, i volontari della Croce Rossa che si sono accollati gran parte dei trasferimenti delle case di riposo dell'ospedale e devo dire l'informazione gestita quasi in solitaria da Fano TV che ha dimostrato di essere l'organo di fatto ufficiale della città e le sue professionalità hanno colmato una lacuna che forse sarebbe bene ripensare anche a livello strutturale e all'interno di un comune rinnovato.